Il parcheggio sotterraneo di Piazza Dante a Teramo inaugurato nel 2010 è una ferita ancora aperta per la città. L'allora Giunta Chiodi decise, tra mille polemiche, di scavare sotto la bella piazza sulla quale affaccia lo storico edificio del liceo classico Melchiorre Delfico per realizzare un multipiano sotterraneo da 300 stalli. A questo progetto è stato sacrificato l'ingresso alla piazza da parte dei pedoni che hanno a loro disposizione una strettoia ridicola dove a malapena si passa uno alla volta, senza considerare l'accesso al parcheggio che ha deturpato per sempre uno dei siti più belli di Teramo. L'operazione è stata realizzata con un project financing che prevedeva almeno l'obbligo per i privati di riqualificare Piazza Dante eliminando gradualmente gli stagli a raso, rendendola pedonale, fruibile, arredandola e farne una sorta di spazio per eventi culturali. Sono passati dieci anni e la piazza è ancora invasa da macchine parcheggiate all'esterno. L'ex sindaco Maurizio Brucchi concessa infatti ai costruttori del multipiano di continuare per tutto questo tempo a gestire un parcheggio a raso da oltre 50 stalli. Ora però la convenzione è scaduta e il sindaco D'Alberto ha deciso che Piazza Dante deve tornare ad essere gestita dal comune e magari riqualificarla come erano i patti. Sindaco, ma quale sarà la fine di Piazza Dante? Intanto quello che abbiamo fatto noi è cambiare la rotta. Decideremo noi quale sarà il destino di Piazza Dante e non un privato. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti e anche a seguito dello studio puntuale di tutti i bilanci e del vantaggio che nel corso di questi anni a seguito di proroghe l'ultima sine die concessa per la gestione del piano a raso è stato dato al privato nell'ambito di una rimodulazione del piano economico finanziario che finora è stato gestito da altri e non dal comune. Possiamo sperare che questa piazza possa tornare ad essere fruibile dai cittadini e non dalle macchine? Ma allora di certo noi non abbiamo accettato la proposta di prosecuzione di proroghe ulteriori dieci anni fatta dal privato, inaccettabile. Si rifaranno i conti, si vedrà qual è, cioè noi i conti li abbiamo rifatti, vediamo adesso qual è la proposta di rimodulazione che il privato ci presenta. è chiaro che lì abbiamo un problema enorme che l'atto di concessione prevede ad oggi che la piazza comunque non possa essere più destinata a parcheggio. Abbiamo però un'esigenza che la città rappresenta in questo momento comunque di non perdere totalmente il numero di parcheggi presenti nella piazza stessa. Quindi il lavoro che dovremo fare una volta chiuso il conto con il privato in termini appunto di valore relativo al vantaggio che al privato è stato in questi anni, sederci intorno al tavolo e definire qual è il piano di chiusura di questa vicenda. Al taglio del nastro del parcheggio sotterraneo di piazza Dante il 6 febbraio 2010 intervennero l'alloro sindaco Maurizio Brucchi e l'allora governatore della regione Abruzzo Gianni Chiodi. In quell'occasione furono proprio loro ad annunciare che i lavori di riqualificazione del piano a raso della piazza sarebbero iniziati in settimana. Sono trascorsi esattamente nove anni e mezzo e i terramani sono ancora in attesa di quel restyling.